Rocco Papaleo, Ettore Bassi, Lina Sastri ed Enrico Loverso, come ogni anno all'interno della rassegna teatrale orlandina, saranno presenti i grandi nomi del cinema e del teatro. E' stata infatti presentata dal sindaco Franco Ingrillì, gli assessori Cristian Gerotto e Rosario Milone, il direttore artistico Salvatore Monastra e il presidente dell'associazione Agora Fulvio Mavilia, la rassegna Capodorlando Theater. Otto gli appuntamenti previsti nel cartellone 2016-2017, dal 6 dicembre al 27 aprile. La novità di questa stagione è che vi saranno due turni, uno pomeridiano alle 18.15 e il classico serale alle 21.15. Per il lavoro di Rocco Papaleo, tratto dal suo film Una piccola impresa meridionale, vi sarà invece un unico spettacolo serale e sarà usata una struttura ancora da decidere tra il Palafantozzi e il Palavalenti. Grandissimo impegno perché portare a Capodorlando delle compagnie importanti e poi cercare di confermarle perché capisci bene che per una sola data non si muoverebbero assolutamente e quindi cercare di coinvolgere anche gli altri teatri per far sì che ci siano più date e quindi avere il piacere di avere l'artista che tu hai scelto. Quest'anno mi premeva avere a Capodorlando Lina Sastri, ci sono riuscito e per la prima volta ho inserito come protagonista nella rassegna Enrico Guarneri con una grande opera di Titina e Peppino De Filippo, 40 non li dimostra. Avremo Rocco Papaleo in una sua performance di un film che aveva già fatto nel 2013. La prima rappresentazione in programma è prevista per martedì 6 dicembre con Enrico Guarneri. Già da oggi è possibile sottoscrivere l'abbonamento alla stagione teatrale al prezzo di 120 euro.